Un saluto dalla redazione, l'informazione di oggi, lunedì 13 ottobre 2014, elezioni provinciali. Spoglio elettorale in due delle tre province calabresi, Catanzaro e Clotone, in cui i sindaci e consiglieri hanno affollato i seggi elettorali per scegliere i nuovi presidenti provinciali. Come rilevato dalle prime proiezioni, la vittoria a Catanzaro è stata conquistata da Enzo Bruno, che ha prevalso sui suoi avversari, Tommaso Brutto e Pantaleone Procopio. A Cosenza, dopo un testa a testa appassionante con i tre candidati, a giocarsi sul filo la vettoria finale, pare che Mario Chiuto abbia compiuto lo scatto decisivo per sorpassare gli avversari e ottenere la presidenza della provincia. Un gesto estremo, quello compiuto dalla famiglia di Donato Dennis Bergamini, calciatore ferrarese del Cosenza Calcio, morto il 18 novembre 1989 in circostanze misteriose. La famiglia ha concesso alla Gazzetta dello Sport di pubblicare online la foto del giovane morto. La foto mostra un viso perfetto, non era il viso di chi veniva colpito da un camion in corsa, hanno affermato la sorella e il padre di Dennis. Intimidazione in cantiere a tre. I gnoti hanno dato alle fiamme, a scopo intimidatorio, cinque mezzi di lavoro parcheggiati in uno dei cantieri per il completamento della traversata delle serre in località Monte Cucco tra il comune Valle Lunga. I mezzi incendiati sono un escavatore, una trevellatrice e tre ruspe di proprietà della Ottavio Cavalleri S.P.A., impresa impegnata nei lavori di realizzazione di un lotto della strada statale 182. L'entità dei danni si aggira sul milione e mezzo di euro. Catturato Vittorio Ieri No. I carabinieri di Torino e di Cuneo, insieme al gruppo di intervento speciale dell'arma, hanno arrestato il latitante Vittorio Ieri No, ricercato per l'omicidio del collaboratore di giustizia Salvatore Germano. Il blitz è durato pochi minuti. I militari, infatti, hanno sorpreso Ieri No mentre dormiva nella sua abitazione e non gli hanno dato il tempo di difendersi con la beretta calibro 9 che aveva con sé. Ieri No, 55 anni, è considerato un personaggio di spicco delle endrine di Marina di Giovesa Ionica. Per l'uomo, che da ieri è nuovamente in carcere con l'accusa di omicidio, anche coinvolgimento nel rapimento alla fine del 1991 della studentessa di Brescia, Roberta Ghidini. Il latitante fu, per un breve periodo, anche collaboratore di giustizia. Una notte di ordinaria follia è quella avvenuta qualche giorno fa, quando il cittadino reggino R.A.P. 36N di Argilla ha preso in ostaggio una giovane ragazza polacca dopo aver minacciato sia lei che il suo ragazzo con una pistola. Il folle gesto, riconducibile sicuramente a motivi passionali e di gelosia, è stato seguito dalla insensata violenza che il malvivente ha scatenato sulla povera malcapitata. Ripetuti sono stati calci e pugni con i quali è stata colpita la ragazza, sperrati con una violenza che nulla a che fare con il sentimento che l'uomo diceva di nutrire nei confronti della donna. Il tutto è però durato poche ore, grazie al tempestivo intervento dei carabinieri della stazione principale del nome della compagnia carabinieri di Reggio Calabria, la cui solezia dei militari ha permesso di avviare sin dall'immediatezza del fatto le ricerche del vessatore. Infatti, a seguito di una brillante attività investigativa condotta in sinergia dai militari, è stato possibile rintracciare Laguzzino, trovandolo ancora in possesso dell'arma con la quale aveva minacciato i due. La donna veniva dunque liberata dal suo carceriere, accompagnata immediatamente presso il pronto soccorso degli ospedali riuniti, dove i sanitari ne disponevano il ricoro a causa delle ferite riportate. Per il reo invece sono scattate le manette, per i reati di sequestro di persona, minaccia aggravata, porta abusivo di armi e lesioni personali gravi nei confronti della donna polacca, nonché minaccia aggravata nei confronti del suo fidanzato. L'attività di polizia giudiziaria è stata convalidata dalla Ciregina, che al termine del rito direttissimo ha disposto la sottoposizione alla misura degli arresti domiciliari con contestuale applicazione del barciaretto elettronico. I finanzieri del gruppo della Guardia di Finanza di Gioia Tauro, unitamente ai funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Gioia Tauro, hanno proceduto al sequestro di un contenere proveniente dalla Cina, carico di giocattoli contraffatti dalle più note marche, e lo kit, quindi deput, cars, toy store e tante altre. L'operazione, condotta dalla Procura della Repubblica di Palmi, ha consentito, dopo una serie di incroci documentali successivi, meticolosi controlli eseguiti su numerosi container, nel transito presso il porto di Gioia Tauro, l'individuazione del carico illecito occultato in un contenitore imbarcato nel porto cinese di Ningbo. La merce, destinata formalmente in Albania, doveva essere costituita da utensili da cucina, così come dichiarato nella documentazione doganale. Tuttavia, i finanzieri e i funzionari doganali nel corso dell'ispezione si sono ritrovati di fronte a numeroso considerevole di giocattoli contraffatti. La merce, pertanto, è stata sottoposta da accertamenti peritali da parte dei tecnici di società titolare di rinomati marchi, i quali hanno confermato l'intuizione dei finanzieri e dei finanziari doganali, ossia che i prodotti recavano marchi illecitamente riprodotti. Complessivamente sono stati sottoposti al sequestro 8.527 giocattoli per bambini, per un valore complessivo di oltre 16.000 euro. Commercializzazione di prodotti contraffatti, che, in assenza delle condizioni di genuinità previste dalla vigente normativa europea, sono potenzialmente dannosi per la salute delle persone e soprattutto per quella dei bambini. Sono in corso le indagini tese ad individuali e responsabili dell'operazione illecita. Nuova certificazione unica per dichiarare i redditi 2014 o schema di certificazione unica CU, che sostituirà il CUD nel 2015, è disponibile in bozza sul sito dell'Agenzia delle Entrate, sul cui confluiranno sia tutti i redditi corrisposti del 2014 e quelli provenienti da lavoro dipendente e assimilati, sia i redditi certificati in forma libera. Nel CU è prevista anche una sezione per gestire il bonus IRPEF di 80 euro, riconosciuto ai lavoratori dipendenti, con un reddito fino a 26.000 euro ed alcune categorie assimilate. I sostituti di imposta compileranno un solo frontespizio contenente i propri dati, le informazioni anagrafica del contribuente, il prospetto dei figli e degli altri familiari a carico del dipendente o pensionato, in relazione ai quali sono state riconosciute le detrazioni per cariche di famiglia. E apriamo la pagina sportiva. A Reggina servono punti al granillo. Il poco esaltante rendimento esterno obbliga la Reggina a conquistare più punti possibili in casa, dove l'andamento è inficiato dal derby, perso con il Messina. A netto di quella sconfitta, in meditata, gli amaranto non sono andati malissimo, ma è il momento di migliorare. C'è la necessità di fare bene nelle prossime due uscite caselinghe contro l'Upa Roma e Avesta Normanna. I capitolini e i campani, pur essendo buone squadre, non sono paragonabili a Salernitana e Benevento. I Granata e i Sanniti rappresentano infatti le due squadre che seguiranno i primi due impegni cittadini degli amaranto in casa Reggina al Granillo. La classifica e il curriculum dei calciatori e dei loro organici gli attribuisce lo status di corazzate. Saranno gare complicate in cui fare risultato sarà difficile, sebbene il calcio non presenti nulla di scontato, ma ai due impegni sarebbe meglio arrivarci con più tranquillità possibile. Calcio A5, Serie C2, SD, Bova Marina, Laganati, terza giornata di campionato, primo incontro casalingo con esordio positivo per la SD, Calcio A5, Bova Marina, che ha battuto Laganati con il risultato finale di 6 a 4. Bene, tutto con l'informazione, anche per oggi vi auguriamo un buon proseguimento con la programmazione di Telemelito. Grazie.